Il premio Nobel 2021 per l'economia, ufficialmente premio della Banca di Svezia per le scienze economiche in memoria di Alfred Nobel, è stato assegnato a David Card, Joshua Angrist e Guido Invens. Nelle motivazioni si legge che Angrist e Invens hanno ricevuto il premio per i loro contributi metodologici all'analisi delle relazioni causali, mentre David Card per i suoi contributi empirici all'economia del lavoro. Nei giorni scorsi l'Accademia Svedese delle Scienze ha assegnato i premi Nobel per la medicina, per la fisica, per la chimica, per la letteratura e per la pace. La cerimonia di consegna dei prestigiosi riconoscimenti è in calendario per il 10 dicembre prossimo.